Tanto tempo fa, in una grande casa nei pressi di Londra, viveva una chioccia con i suoi tre servitori. Andava tutto stranamente bene in quel periodo, quando ecco che una notte passò a trovarle un magico personaggio, che cambiò la loro vita per sempre. Cosa è stato? Siamo sotto attacco! Al rapporto! Al rapporto! Prima che tu me lo dica... Cristo santo! Ok! Prima che tu me lo dica... Porca puttana! Non vuoi che ti dia una spiegazione? Oh sì, Alucard, ci terrai molto a sapere perché hai sparato a Babbo Natale! Mi ha spaventato! Ha spaventato te? Lui ha spaventato me! Oh beh, dovrebbe almeno scusarsi! Mi sarà un po' difficile, visto che sai, gli ho sparato! Ma bene, cosa proponi di fare? Beh, a quanto pare devo salvare il Natale! Eh già, c'è poco da fare! Ci sarà un'altra soluzione, deve pur esserci! Tanto non riuscirai a fermarmi, ormai ho deciso! Era il tuo piano! Come? Era il tuo piano fin dall'inizio! Però, sul serio è così poca fiducia in me! Padrone, la slitta è pronta all'utilizzo! Purtroppo è morta una renna, ma... Oh oh! Giuro che il costume da elfo non mi è costato niente! L'ho rubato! Ah, Luca! Se l'ha fatto Jack Skeletron, posso farlo anch'io! E così, Babbo Alucard e la sua piccola aiutante si ricarono in molte case quella notte, finché Alucard si stufò e presa a vagare senza meta. Fin... Ne... Buon Natale! Buon Natale! Grazie a tutti.